che cosa andremo a fare oggi rocchetta oggi andremo a fare un prank a ya yao wow l'ha detto lei e oggi andrà a fare un prank a ya yao che sta a danza come sempre a danza dobbiamo trovare qualcosa e spaventarla a morte stavi cascando malamente esatto e quindi ci mette io ho le maschere da allume quelli tipo joker morti mostri andiamo a cercare ma dove stanno come al solito non sai mai niente di casa tua e no lo rilascia qua ok ragazzi andate a cercare le maschere c'è la maschera non so io mi so dove sta sotto il buco bella per il gatto hashtag gatto degli angoli un giorno vi spiegheremo il perchè non lo so non so dove sia non ti giuro vabbè come al solito non sappiamo mai dove la roba hashtag camera di ya yao qui c'è una persona sotto nascosta un coltello trafiggio e va cappello da stupido al solito eh sì sì guarda ah eccola eccola questa maschera costa di 50 euro ma che stai a dire eh ma guarda che cos'è che schifo ti assomia ahahah ora me la voglio andare a provare proviamola un attimo oh ma oh raga come tal qui sotto con quanto non ho bello da una a 10 zero oh che carino sei pessimo carino sì sì ok raga io credo che va bene è disgustoso oh ok raga maschera trovata e aspetteremo questa sera che di ya yao non lo so tornerà tranquilla si metterà a fare le rinne prenderò la maschera infilerò la maschera nella testa wow bene quindi ci vediamo stasera no ok raga telecamera la mettiamo un po' boh non penso che se ne accorgi però ok no non si dovrebbe accorgere anche perchè sono un po' di vestiti qua un po' di di vestiti per uscire è perfetto ci vediamo troppo bella no 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 ma sei stupido dai però no 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 ma come sono tipo mezzanotte esatto mezzanotte 18 rica ha fatto nulla oh mio dio che ti hai distratto Ma è fighissima questa maschera Dai insomma Considerazioni a caldo E' vero del prank? E' un prank come sempre Intanto Ilaria preparati Appena dormi Ancora non capisci Alzati Che cosa vuoi fare? Ma c'è l'aria un po' di cacca sulle mutande? Se ti sei cacata sotto Ma che sei scio? Raga Io lascerei a Yawko un po' col dubbio Perché è vero che Stava con la luce accesa Si è spaventata però potrei fare di peggio Io lascio a Yawko col dubbio Capite? Io l'avevo detto Che non finiva con il prank Perché Non doveva finire così Quindi sono le 2 e 27 Dormo tutti Entro a casa Stavamo dietro a Yawko E' tardissimo Guarda se non ci vedete Veramente Vabbè fare tutto poi Adesso vi metto la maschera E faccio un prank Lei ti sono andato a dormire Presto Perché se non si sveglia E ora la sveglieremo Vai Commentate qui sotto Scrivendo se a voi Farebbe paura una persona che entra così E' tardi E' tardi E' così morto Madonna, è tati Ma a morire Un dio, è rotto il naso È rotto il naso, io 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 io, io io È rotto il naso Io io Non mi interessa Dai, lo facciamo Non sanno i nord Cioè, è il video costumo Sai che ori solo, io io Sono le due e mezza Non so se si è rotto il naso Goto Goto Vai a dormire Buonanotte Corello E dai Sei un po' tutto Buonanotte Buonanotte